eccomi buonasera anzi per me è buonanotte e mezzanotte 5 vaca merdina la nanna non sa vicina perché anche stasera dormo domani non ce la posso farcela comunque il video dell'ognomo tra l'alla ha fatto la sua porca figura finalmente abbiamo beccato una prova esistenziale del piccolo popolo io e la liona anzi la liona perché è stata lei che è riuscita a vedere dove si muoveva l'esserino io poi sono partita ai telefonini armata di cam a registrare ma è stata lei ad accorgersi per prima del movimento insolito della situazione comunque cmq lady ghost le disse da quelle di nastrino salutano a prescindere sto guardando ciccia cosa sta facendo ma è lì che sta facendo la statuetta sul divano ora è sceso ma è pure vabbè comunque ci c'è un maschio e quindi non rientra nella categoria del video di questa sera perché dopo quasi oltre tre anni quattro anni quattro anni quattro anni quasi che faccio video contro video quattro video ho deciso che stasera a già parlà di una cosa che fa anche abbastanza schifo tra le altre cose e che io fortunatamente mi sono tolta dalle balle ormai oltre quattordici anni fa alleluia alleluia anche se non sono cristiana va bene lo stesso cioè già ti schiaccio levati nei piedi e che è il tanto nominato e famigerato in esoterismo mestruo le mestrazioni il menarca il capomese il marchese mai capito perché lo chiamassero marchese ma con l'altro discorso le mie cose i nomi poi sono quelli più assurdi c'è ragione la vignetta che c'è la vignetta con l'omino e la donina e l'omino gli dice ma non viene a fare il bagno dai rinfrescati sono al mare e lei gli dice no 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 sto qua che c'ho le mie cose ma tranquilla te le guardo io questa è una vignetta molto sottile che fa che sottolinea proprio la cume maschile ma nella notte dei tempi si perde la paura e il terrore proprio del maschio verso il mestruo che è stato demonizzato dalle religioni monoteiste e non solo le monoteiste proprio perché le monoteiste sono di stampo maschilista e hanno demonizzato tutto ciò che l'uomo inteso proprio come maschio teme di più tiene paura il sangue mestruale nei tempi in cui erano ancora venerate le dè e in principio quando la dea madre era donna la dea per eccellenza la dea che aveva creato il mondo perché la donna non era una questione femminista era una questione di logica e buon senso a livello di mentalità perché la donna che partorisce di conseguenza per gli antichi l'unica che poteva aver creato la stirpe umana se era una divinità secondo loro ovviamente poteva essere stata solo una donna perché la donna partorisce la donna partorisce giuro c'ho le prove stanno lì le prove stanno lì le prove passeggiando le prove che la donna partorisce che comunque se la donna si comprava un paio di conigli era meglio ma no lui non è d'accordo però appunto la dea primordiale era la dea madre dalla dea madre sono scaturite le dee madre le dee terra le dee herda e tutto il sistema mondiale nei vari credo nei vari paganesimi dove c'erano sia dee femmine che dei maschi portava un enorme rispetto verso proprio il sangue mestruale ad esempio i greci che sono quelli che normalmente con la mitologia vengono ricordati un po meglio sì mentre la donna già lavorava con il suo maestro e creava figli l'uomo faceva la scimmia ed è rimasto scimmia è giuro ha solo perso il pelo vedi anche le ditine come le scimmie poi lui c'ha anche i piedi preinsili si aggrappa con i piedi a modi gancio occhio a non sparare scorreggia che poi mi parti in volo in quella posizione ecco preciso un babuino preciso proprio anche la posizione comunque mentre l'uomo era ancora scimmiato e non è che si è cambiato di molto ah un cane che testa dura che c'hai volevo dargli un morso al dito e c'era il suo testo nell'acciaio avanti io ho detto adesso parlo dimostrazioni così questo si inquieta piglia se ne vai invece no non gliene può fregare meno proprio niente manco quella di soddisfazione ma è una gioia comunque mentre l'uomo appunto faceva il cretino ancora ai tempi le sacerdotesse delle divinità donne soprattutto in grecia utilizzavano il sangue mestruale per evocare la fertilità ad esempio i rituali a demetra i rituali che servivano a propiziarsi i raccolti venivano proprio effettuati con degli stracci di lino o di cotone imbevuti di sangue mestruale e poi lasciati sul terreno in modo che demetra lo utilizzasse sto cominciando a sconcertarlo utilizzasse quel sangue mestruale per far sì che le messi fossero maggiormente più proficue facessero più frutti ma aveva anche un potere distruttivo questo perché perché dal periodo grossomodo di plinio in poi si iniziò a sospettare l'elevazione del ph del mestruo anche se ancora all'epoca di ph non ne parlava nessuno che cos'era era il flusso di acidità la gradazione di acidità estrema che aveva appunto il flusso del sangue mestruale che era in grado di uccidere le piante certo era in grado di ucciderle se rovesciato in maniera liquida o mescolato con l'acqua sulla pianta e peraltro veniva anche usato per eliminare punti di erbacce dove magari si voleva costruire ok proprio per la sua grossa acidità da lì poi iniziò il detto il la leggenda metropolitana tra virgolette anche se ancora le metropoli non erano metropoli come le intendiamo noi che una donna col mestruo fosse acida quanto il suo mestre quindi se tocchiava toccava la pianta moriva la pianta se toccava un albero cadevano addirittura i frutti e e quant'altro e questa cosa aveva iniziato a spaventare i maschi sempre di più perché si sentivano impotenti verso un potere tra virgolette così dichiarato grande che loro non potevano conoscere in nessun modo perché non lo avrebbero mai avuto man mano che le religioni si andavano a incuneare verso il monoteismo questa credenza della potenza del sangue mestruale divenne ancora più ancora più temuta dal dal genere maschile che con la piena presa di potere della religione monoteista che instaurò un regime esclusivamente maschilista dove persino il loro dio aveva un sesso ed era maschio così perché l'avevano deciso loro e perché non c'avevano niente di meglio su cui aggrapparsi per dimostrare la loro eventuale non dico superiorità ma almeno a pari merito e allora hanno deciso di inventarsi un dio maschio ho detto dio non bertuccia sta appeso alla ringhiera delle scarse se cade di lì ti spacchi la testa che è alto poi c'è il telefono che ha cascato giù e iniziarono a demonizzarlo infine soprattutto la scia delle religioni abramitiche lo demonizzata al punto da renderlo un fluido esclusivamente satanico uno dei motivi per cui il diavolo religioso il satana il diavolo il cornuto per eccellenza è sempre raffigurato dal basso medioevo in poi in rosso non è per il fuoco dell'inferno anche perché le bolge infernali avrebbero un tot di fuoco un tot di ghiaccio quindi non avrebbe nessun senso fa disegnare il diavolo rossiccio al solo scopo di renderlo simile alle fiamme allora avrebbero potuto renderlo nero in modo che perlomeno sembrava bruciato dalle fiamme e invece lo hanno reso rosso proprio perché era a diretto contatto con la cosa più sporca e più infima che poteva esserci all'interno di un essere umano il sangue mestruale quindi le persone sulla terra che si ritrovavano almeno per quattro cinque sette giorni al mese a essere completamente impure erano le donne perché gli uomini sta rottura di balle non ce l'hanno mai avuta essendo stato demonizzato la magia rituale legata al satanismo medievale o presunta tale iniziò ad arricchirsi di strani incantesimi a base di sangue mestruale primo fra tutti ovviamente quello per legare un uomo ai propri voleri ce ne sono due in particolare estremamente famosi che ovviamente posso tranquillamente recitare anche su un video perché tanto non servono le merita fava non sono funzionali ma godono di tremenda fama me li sono segnati nel corso della storia il primo è un incantesimo dichiarato per testimonianza diretta durante un processo alle streghe verificatasi nel 1679 la signora strega detta masciara perché si parla di streghe lucane della basilicata dichiarava peraltro si chiamava grazia gallero dichiarava ho fatto il sangue che purgano le donne incantate e serve a ciò un uomo volesse bene alla stessa donna da chi ha da essere il sangue per fargli l'incanto che significa ho usato il sangue mestruale per legare un uomo alla donna che voleva quell'uomo legato a lei poi continua mi faccio dare dalle stessa donna che desidera l'uomo tre stizze del sangue proprio delle purghe dentro un vaso e sopra del sangue dico tre volte diavolo vogli bene verbi gratia a pietro e questo sangue nello stesso tempo che dico le parole chiamando il demonio lo sto mischiando col vino portato alli stessa donna dalli stessa donna per darlo poi a bevere a chi vuol bene questa è stata appunto la testimonianza di una donna lucana del 1679 che era stata giudicata come strega come masciara grazie gallero questo è un verbale redatto dall'inquisizione cattocristiana dell'epoca cattolico cristiana e di conseguenza sappiamo bene come storcevano queste testimonianze questi verbali un'altra di cui non c'è giunto il nome ma le streghe all'epoca furono tantissime a essere state processate proprio per l'utilizzo del sangue mestruale dichiarava allora tu mangerai e non saprai che quando giuda vende il cristo non possi tu far sé non quello che vorrò che significa te ciucci questa cosa ed ora in poi sarai mio schiavo molto molto riassunto questa venne eh dichiarata non c'è giunto il nome ma riportata da tal de martino nel verbale poi c'era la frase classica che divenne di uso comune ancora fino a 20 30 40 anni fa sempre centro Italia e sud Italia qui si prendono ad esempio dove ho preso io diciamo queste questi esempi erano dei processi fatti a delle streghe lucane e quindi per chiedo perdono se non riesco a pronunciare l'accento nella maniera giusta ma le frasi sono dell'epoca e di di derivazione lucana sangue delle mie vene pozza vene nelle ah sangue delle scusate la ripeto sangue delle mie vene pozza vene nelle tue vene non te pozza dimenticare maie de vene questa era la classica usata ancora ripeto fino a 20 30 anni fa ovviamente già dai tempi del medioevo questo tipo di incantesimo che non facevano le streghe vere ma erano raccontati e descritti da donne che erano state accusate di stregoneria voi dovete ragionare su una cosa primo le streghe vere sono sempre state estremamente rare perché una strega ha un bagaglio culturale che fa paura rare sporadiche silenziose inoltre chi è strega per un verso o per l'altro ha capacità veggentiche chi ha capacità veggentiche sa bene cosa accadrà e di sicuro non si fa acchiappare da un'orda di frati e preti infervorati alla caccia delle streghe quelle che venivano invece prese processate come streghe erano delle povere donne contadine o comunque comuni che magari avevano imparato queste robe qui che vi ho recitato che sono robe di folklore non hanno nulla di magico e sotto tortura le ripetevano o peggio ancora erano gli inquisitori stessi a mettergli in bocca queste frasi di cui magari loro non sapevano nemmeno che cosa era il vero significato come ho detto in principio di video le ho recitate perché si trovano tranquillamente sul web nella storia e nel folklore magico che riguarda l'alone di mistero intorno alle mestruazioni ovviamente ogni folklore ogni storia ogni fiaba ogni leggenda anche ogni religione ha dei 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 punti di partenza di un qualcosa di vero ma il fatto che il sangue mestruale possa essere un veicolo esoterico ritualistico per determinate esigenze ritualistiche non significa che debba essere usato possa essere usato in questo modo gli usi sia nel bene perché viene usato anche per il bene soprattutto dalle streghe pagane e sia per nuocere all'altrui persona ha necessità di altre ritualistiche molto più antiche rispetto al basso medioevo che ormai conosciamo in tre e che ovviamente io perlomeno non sarò tra quelli che lo descrivono anche se ci tengo a sottolineare una cosa io sono contraria a qualsiasi rituale che leda il libero arbitrio di altre persone sono sempre stata contraria ai legamenti sono sempre stata contraria agli allontanamenti sono sempre stata contraria a tutta quella ritualistica che fa fare agli altri ciò che vogliamo noi proprio per farla papele papele ma questo non significa che condanno l'esoterista che lo fa io condanno chi lo richiede quel servizio sottolineando il fatto che io non lo farei mai e nemmeno lo insegnerò mai ma non ho nulla contro chi lo fa e nemmeno contro chi lo insegna sotto delega cioè se una persona va da un ritualista per un legamento e quel ritualista gli fa il legamento che si faccia pagare che non si faccia pagare a me ne frega niente il colpevole di quello schifo non è il ritualista che ha accettato di farlo o che ha accettato di insegnarlo lo schifo è quella persona che l'ha richiesto non sono mai stata per la censura non sono d'accordo che per tutelare le persone bisogna non fargli sapere certe cose sono dell'opinione che chi è cagion del suo mal pianga a se stesso ognuno di noi ha il proprio bagaglio di responsabilità e queste responsabilità sono esclusivamente sue non sono di qualcun altro quindi anche il ritualista vero si potrebbe anche rifiutare senza problemi ci sono tanti ritualisti che si rifiutano assolutamente tanto di cappello peraltro e di stima da parte mia c'è anche quel ritualista che non se ne fa niente di rifiutarsi in fine conti è il suo cliente che vuole quel determinato rituale si deve però prendere anche le sue responsabilità io questo lo dico sempre in generale a eventuali ritualisti che mi ascoltano una cosa che negli studi della ritualistica moderna nessuno dice mai ai ritualisti è che quando fanno determinati rituali per qualcuno che li facciano per amicizia che li facciano per bontà d'animo che li facciano a pagamento che li facciano come mestiere dovrebbero prendere la sana e buona abitudine di farsi scrivere nero su bianco che la responsabilità del contraccolpo di ciò che stanno ritualizzando è espressamente di chi ha chiesto il rituale e poi farlo firmare fisicamente con una goccia di sangue del mandante quindi il mandante colui che chiede dovrebbe bucarsi un dito e spiaccicare il suo dito su quel foglio questo lo dico proprio per parare il culo ai ritualisti perché è inutile che si giri intorno dicendo in giro che i colpi di ritorno non ci sono ma io mi so schermare ma io mi so proteggere è vero niente non ti puoi schermare da un colpo di ritorno perché non è un qualcosa che ti manda qualcuno ma è una roba che hai chiesto tu all'universo e quindi devi pagare lo scotto all'universo ci sta poco da fare se non dai la se non fai fare la delibera al cliente che si prende il cliente o l'amico che sia il conoscente la responsabilità di ciò che vuole attuare ti arriva tutto sul collo a te e sto parlando con i ritualisti ora che si fidano troppo di ciò che viene insegnato ai giorni nostri ma non è così come lo vogliono far credere in ogni caso il sangue mestruale può servire in ritualistica sia per per attrarre la fecondità ad esempio il battesimo del sangue che fu poi nei tempi dell'inquisizione una delle pratiche dichiarate dalla chiesa e dal monoteismo in generale estremamente blasfeme perché perché del battesimo se ne erano impossessati loro e quindi non si poteva battezzare niente se non erano loro a battezzarlo e figuriamoci battezzare del sangue mestruale ma il battesimo del sangue mestruale che poi ripeto la chiesa in primis ma tutte le religioni monoteiste hanno bandito e hanno considerato come una delle peggie eresie era utilizzata invece nell'antichità a scopo terapeutico era un rituale atto al concepimento quindi quelle persone che non riuscivano a concepire ad avere dei figli e li volevano attuavano questo rituale che consisteva in un vero e proprio battesimo del sangue mestruale quindi si raccoglieva più sangue mestruale possibile in un'ampolla in un contenitore lo si faceva seccare per sette giorni alla luce del sole quindi tutte le sere andava riportato dentro e tutti i giorni andava rimesso fuori in modo che seccasse con un panno sopra in modo che gli insetti non ci andassero sopra poi questo sangue secco veniva grattato mescolato al sale poi a seconda di varie culture veniva mischiato con diversi liquidi alcuni utilizzavano del latte di capra di mucca o di pecora altri utilizzavano dell'acqua ritualizzata a sua volta come l'acqua di luna come l'acqua della dea venere e via dicendo altri ancora con delle acque sacre che arrivavano da delle fonti considerate sacre come ad esempio l'acqua delle rose che c'è in arabia che adesso è considerata musulmana ma quella fonte esisteva già da prima l'acqua che profuma di rose da prima dell'avvento dell'islam e altri liquidi in generale poi veniva fatto una volta impastato con il sale e con questo liquido nuovamente asciugare e poi venivano fatte delle tamponature sia sull'addome della donna e sia sulla tratzmashkile perché questo tipo di rituale si riteneva che rinvigorisse la possibilità di avere figli ma dato che era a base di sangue rituale e che gli antichi lo chiamavano battesimo il battesimo del sangue mestruale per il monoteismo era diventata estrema blasfemia tanto da considerarlo il peggiore degli utilizzi il più dissacrato degli utilizzi di quella sostanza che già per loro era comunque una sostanza derivante dal male era comunque già una cosa da considerarsi impura sporca quindi il tutto nasce sempre dal timore la religione aveva paura delle dee l'uomo era riduce di una società o a pari merito che gli antichi erano estremamente evoluti a livello sessuale sia uomini che donne o addirittura da sistemi di vita matriarcale dove era la donna essere considerata quella saggia quella legata agli dei quella più intuitiva e via dicendo e quindi per prenderne il sopravvento dovevano distruggere tutti i punti di forza che aveva l'essere femminile questo ovviamente non è un discorso femminista io non sono femminista non sono maschilista per me sono tutti uguali me ne frega un tubo io ho sempre fatto tutto quello che mi pareva da quando sono nata da maschio da femmina non mi fregava niente se mi piaceva una cosa la maschina la facevo se mi piaceva una cosa la femmina la facevo me ne è mai fregato un tubo di quelle cose sono congetture di società e appunto inculcamenti religiosi null'altro che quello io infatti dico sempre che la razza umana sarà evoluta a livello sessuale cioè di mentalità sessuale il giorno in cui l'uomo a petto nudo per la strada e la donna a petto nudo per la strada produrranno lo stesso identico effetto nella mente di chi li guarda finché non arriveremo a un punto in cui le tette maschili le tette femminili avranno la stessa importanza lo stesso significato all'aria non saremmo mai aperti mentalmente al fatto che siamo tutti esseri umani che non c'è qualcuno che si deve coprire di più qualcuno che si può scoprire di meno qualcuno che deve stare attento a come si atteggia qualcuno che può permettersi di atteggiarsi e via dicendo ma finché due tette di donna faranno tutta l'impressione che due tette di uomo non fanno l'apertura mentale non ci sarà mai comunque questo è il famigerato sangue mestruale ed ecco perché è arrivato ai giorni nostri con questa strana nomea esoterico ritualistica che da una parte spaventa per gli inculcamenti religiosi e dall'altra viene utilizzato in maniera errata perché hanno mescolato gli antichi rituali pagani 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 con le concetture monoteistiche insomma il solito gran calderone di stronzate mixato con la religione dove nessuno si è mai interessato di andare invece a verificarne la storia la nascita e le radici vere di ciò di cui si parla ho sforato i minuti non so nemmeno se stasera muo carica ma tanto è lì c'è sta c'è sta c'è sta c'è sta poi con calma lo metto in programmazione anche domani anche perché manca un quarta luna io tengo no sonno che la metà basta e quindi Lady Ghost Lady Salaco Lady Nastino risalutano tutta la lista di tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più giù tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in mente i miei libri che ad oggi sono sempre i soliti otto bello l'otto mi piace l'otto è il simbolo dell'infinito l'otto e lo adoro ma scriverò anche il nono ovviamente però l'otto mi piace detto questo ciao